Livia, matrimonio e figli è quello che Roma si aspetta da te. Ma ora ti chiederà qualcos'altro. La nostra famiglia ha combattuto per la Repubblica, ma adesso dovremo combattere per mantenerla. La guerra ci sarà alla fine. Gaio non restituirà il potere. Come Cesare sta sfidando il Senato, può succedere di tutto. Il popolo è stanco di guerre. Accetteranno un dittatore in cambio della pace. Non voglio essere un dittatore. Voglio essere un dio. Ho trovato il modo. Ma per restaurare la Repubblica dobbiamo prima distruggerla. Ho bisogno che tu capisca. Mariti e mogli, madri e figli, veleno e sangue. Non finirà mai. Tutti quei segreti sussurrati non è affatto per i ragazzi. È solo per il potere. Non è solo per quello, è per tutto. Livia Drusilla è un gioco molto rischioso. Credi che tutto sia un tuo diritto di nascita? Ma puoi sempre perderlo in un momento. Come è successo a me? Vuoi davvero scommettere ogni cosa su questo? Ma trucchiamo i dati. Rallegrati, Agrippa. Se non funziona, puoi sempre uccidere tutti. Io sono la figlia di Marco Livio Druso. Non rinnego la mia parola e non fungo. Hai ripristinato il potere al Senato o no? Ci sto provando, padre. Ah sì? Davvero? O ti sei segretamente innamorata del tuo potere?